con pochi iscritti e tanti docenti. Dunque c'è polemica, c'è area di polemica appunto sul numero chiuso nei corsi dove si registra maggiore attrattività decisa a maggioranza dal Senato accademico nonostante i pareri contrari di tutti gli organi competenti e ciò porterà la nostra Università al tracollo. Non ha usato mezzi termini Maria Grazia Cifone, direttrice del MESVA, Dipartimento di Medicia Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente per ribadire in un'affollata conferenza stampa il no all'operato della rettrice Paola Inverardi. E anche la Pezzopane appunto dice la sua, sono contraria alla decisione di estendere l'accesso programmato ad altre facoltà universitarie dell'Aquila. È una scelta assurda che rischia di provocare una forte emoragia di studenti. Ma passiamo oltre, campo asfaltato, un caso politico dunque documento contro i salesiani, il Consiglio Comunale non ha discusso della ricostruzione sociale. All'Aquila il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che vedeva come primo firmatario il consigliere Antonello Berardi con il quale impegna il sindaco a incontrarsi immediatamente con l'ordine dei salesiani pensate allo scopo di far ripristinare il campo di calcio con manto in erba sintetica utilizzabile per qualunque attività ludico-sportiva impegnando altresì l'Aggiunta e il Consiglio a promuovere anche attraverso una sottoscrizione popolare la ricerca di risorse economiche nel caso in cui quelle destinate al ripristino della struttura non fossero sufficienti. Dunque via libera dell'Assemblea, 20 voti favorevoli, 5 contrari e 1 di astenzione anche alla proposta riguardante il progetto preliminare per i lavori di adeguamento ed efficientamento del sedime aeroportuale di Preturo. Gli interventi richiedono l'assunzione di una variante urbanistica e il mutamento di destinazione d'uso di terreni per complessivi 2 ettari censiti in zona agricola al fine di consentire in futuro l'ampiamento dell'area parcheggio e hangar. Mentre in bicicletta con la pedalata assistita, l'assessorato all'ambiente del Comune dell'Aquila ha organizzato una giornata promozionale. Dunque nell'ambito delle attività legate alla sfida europea Bike 2014, competizione a squadre dedicata ai ciclisti urbani che è in corso dal 1 maggio e andrà avanti fino al 31, l'assessorato all'ambiente del Comune dell'Aquila ha organizzato una giornata promozionale. Domenica dalle 10 alle 13, grazie ad uno sponsor privato, verranno messi a disposizione gratuitamente diversi modelli di biciclette a pedalata assistita, city bike e mountain bike per percorrere un tragitto di circa 2 km dalla stazione ferroviaria a Piazza Duomo passando lungo via 20 Settembre. Nuovi posti auto in zona Questura, ordinanza del Comune, prevede parcheggi liberi tra Via Strinella, Via Parrozzani e Viale Panella. Mentre Lampi promuove un incontro sulla figura dell'alpino Biglieri, dunque domani alle 18 al Palazzetto dei Nobili, in Piazza dei Gesuiti all'Aquila, il Comune dell'Aquila e Lampi, che ovviamente è l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ricorderanno con un incontro pubblico la figura di Giulio Biglieri a 70 anni dalla sua morte. Biglieri nato all'Aquila nel 1911 e poi trasferitosi con la famiglia al nord, combatte come alpino sul fronte albanese e dopo l'8 settembre scelse coraggiosamente l'impegno patriottico nelle file del Comitato di Liberazione Nazionale. Arrestato e condannato insieme ad altri antifascisti, fu fucilato il 5 aprile del 1944 a Torino. I suoi ultimi pensieri compaiono nella struggente raccolta delle lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana. Il programma Feste Patronali a Monticchio, musica e mostra d'arte, è stato reso noto dal Comitato Promotore il programma delle Feste Patronali in onore del Beato Timoteo e di San Pasquale Bailon in programma da oggi e fino a domenica a Monticchio. Dunque oggi dalle 16.30 confessioni, ore 18.30 messa, 19 apertura festa con fuochi pirotecnici, 21.30 proiezione del film Sole a Catinelle. Mentre domani ore 8, apertura festa con fuochi pirotecnici, 8 messa e al termine processione in onore del Beato Timoteo per il convento di Sant'Angelo d'Ocre. Messa al convento, alle ore 12 fuochi pirotecnici ancora e alle 18.30 giochi per bambini con l'associazione Ludobus. Mentre alle 16 giro per le vie del paese con la banda di Paganica. 18.15 rosario, 18.45 messa prefestiva, vespri solenni, bacio della reliquia, 28.30 orchestra spettacolo, gli amici liscio, balli di gruppo. Poi domenica alle ore 8 continua ovviamente il programma. Mentre in un libro la storia dello sporting club TOF, domani grande adunata dei ragazzi di padre Casimiro, protagonisti di una lunga stagione di successi. Nella foto una vecchia formazione dello sporting club TOF con le caratteristiche maglie di lana bianche con banda rosso-blu. Dunque ricordano lo sporting club TOF, è il titolo del libro che verrà presentato domani alle 17.30 nell'auditorium Sericchi in via Pescara 4, introdotto da un filmato sugli anni d'oro del sodalizio aquilano. L'iniziativa organizzata dal Lord Sporting Club TOF sarà preceduta alle 16.30 nella chiesa di Santa Rita in via Strinella da una messa ufficiata dai frati di San Bernardino per ricordare gli amici che non ci sono più. Mentre andando avanti puntellamenti, scontro tra procura e le parti lese. Il PM dice al giudice, niente tangenti, caso da archiviare. La replica, vicenda che danneggia la collettività. Dunque posizioni completamente diverse tra le parti nell'udienza nella quale si è discussa la richiesta di archiviazione per presunte tangenti in relazione ai lavori di puntellamento all'ex prefettura e nella chiesa di San Marco. Indagati, ma senza che loro siano state fatte ufficialmente pesanti contestazioni, ci sono quattro persone. Il funzionario comunale Mario Di Gregorio, gli imprenditori Mauro Pellegrini e Giancarlo Di Perzio e Concetta Toscanelli. La procura della Repubblica, dopo una serie di indagini che non hanno portato a nulla, ha chiesto al giudice di archiviare. Le parti offese, probabilmente, ritenevano verosimile una ben diversa conclusione delle indagini, hanno fatto opposizione tramite gli avvocati Antonio e Francesco Valentini e ieri, davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella, il caso è stato discusso e poi le parti hanno presentato per tabulas le proprie conclusioni. Gli avvocati dei sospettati, Massimo Carossi, Riccardo Lopardi, Stefano Rossi e Francesco Carli, senza discutere più del dovuto, si sono associati alla richiesta del PM che vuole chiudere il caso. Mentre dice appello per l'Aquila serve trasparenza su vendita materiali. Il 5 maggio il Comune ha revocato in autotutela l'avviso pubblico per lo stoccaggio e la successiva vendita dei materiali dei puntellamenti. Ricordiamo, si legge in una nota di appello per l'Aquila, che i puntellamenti sono di proprietà del Comune e della loro vendita è possibile ricavare decine di milioni, una manna per le casse comunali. L'avviso era del 25 ottobre 2013 e alla fine dello scorso anno l'assessore Moroni assicurava che la scelta della ditta sarebbe stata fatta in pochi giorni. Ora lo si revoca in autotutela perché evidentemente ci si accorge di alcuni errori. L'affaire Puntellamenti è una delle pagine oscure del post-sisma con un'indagine in corso che ha coinvolto alcuni membri della scorsa giunta a Cialente e portato alle dimissioni, come ricorderete, del vice sindaco Riga. Concorsone protestano gli idonei, critiche ai comuni abruzzesi per assumere un non pescano nella graduatoria. Dunque vento di critiche sul concorsone dell'anno scorso. L'Abruzzo segue all'esempio della campagna e il comitato vincitori idonei del concorsone per la ricostruzione plaude all'iniziativa del comune di Giuliano in provincia di Napoli che ha attinto alle graduatorie RIPAM per assumere a tempo indeterminato un istruttore amministrativo e altre tre figure professionali. Il comune campano nel 2013 aveva usato le stesse graduatorie per conferire tre incarichi a tempo determinato. Finora nessun ente o istituzione abruzzese ha ritenuto di sfruttare il concorso già espletato che ha selezionato i 300 vincitori e gli idonei tra circa 36.000 candidati. Ci auguriamo invece, scrive il comitato, che la politica abruzzese di una risposta concreta ai tanti giovani che hanno affrontato e superato un concorso durissimo che ha brillato per rigore e trasparenza. Mentre regionali, ieri incontro con Acerbo e la Giannangeli, si è tenuto ieri un incontro elettorale promosso dalla lista Un'altra Regione per Acerbo, nel corso del quale la candidata Simona Giannangeli e lo stesso capolista Maurizio Acerbo hanno incontrato la gente per discutere di sanità, diritti, giustizia ed altre tematiche. Mentre ricordiamo e segnaliamo che ci sarà una disinfestazione al via appunto il 19 maggio, l'operazione inizierà dalle frazioni per poi arrivare al centro. Dunque il settore ambiente del comune rende noto che nei prossimi giorni verranno effettuati gli interventi di demuscazione sia in città che nelle frazioni. Questo è il calendario degli interventi, lunedì 19 maggio, Camarda, Sergi, Filetto, Pesco Maggiore, Aragno, Colle Brincioni, Fonte Cerreto. Mentre martedì 20 maggio, Preturo, Sassa, Colle di Sassa, Genzano, Pagliari di Sassa, Palombaia, San Martino, Foce di Sassa, Cese, Preturo, Pozza, San Marco di Preturo, Santi, Casaline, Menzano, Colle di Preturo. Mercoledì 21, San Giacomo, Gignano, Torretta, Sant'Elia, Pianola. Mentre giovedì 22, Bagno Grande, Monticchio, Cività di Bagno, San Benedetto di Bagno, Bagno, Poggio di Roio, Monteluco, Roio Piano, Santa Rufina, Colle di Roio, Colle Fracido. Mentre venerdì 23 maggio, Paganica, San Gregorio, Temperaonna. Il 24, Coppito, Arischia, San Vittorino, Canzatessa. Il 25 maggio, Santa Barbara, San Francesco, Torrione. Mentre il 26, Pettino, Contrada Romani, Contrada Pratelle, Contrada Vetoio. Il 27, Pile, Contrada Cavalli, Contrada Cappelli, Zona Stazione, Villa Gioia, Borgo Rivera, Via 20 Settembre, Villa Comunale, Via Strinella Questura Stadio Comunale, Fontana Luminosa, Polo Universitario Umanistico, Castello San Bernardino. I residenti durante la disinfestazione, che comunque verrà fatta di notte, dovranno tenere chiuse le finestre delle loro case. Un'altra disinfestazione si annuncia che verrà effettuata durante quest'estate. Passiamo oltre diabete. Pensate, il rischio aumenta per chi vive nel piano case. I dati dal monitoraggio della popolazione domenica torna lo screening controlli gratis riservati ai residenti nell'insediamento di Paganica 2. Nell'immagine la dottoressa Rossella Iannarelli dirige il servizio di diabetologia dell'ospedale regionale. Passiamo ora alle notizie abruzzesi, alle notizie della regione. E dunque gli studenti dicono ai candidati, chiedono ai candidati, borse di studio e servizi all'Università di Teramo, confronto con i quattro in lizza per la regione. Servono case a prezzi politici, trasporti più efficienti e sostegni a chi merita. Mentre durante un comizio a Pescara l'imprenditore si incatena e Grillo corre a sostenerlo. Dunque pensate un po' la carica propagandistica di quest'azione perché martedì a Pescara la vendita all'asta per debiti della casa pignorata di Buttiglione, il leader dei 5 Stelle fa sapere sarò con lui in tribunale. Equitalia si chiama fuori. Andiamo oltre e possiamo passare appunto al messaggero Abruzzo. Dunque niente comizi in piazza Salotto, i titoli, Pescara si infiamma il clima elettorale dopo l'ordinanza del sindaco sugli spazi disponibili e il PD accusa scelta oscurantista. Il comizio di Grillo martedì prossimo si sposta all'arena del mare. Ed è appunto doveroso segnalare questa vicenda. Giulianova schiaffi PD Movimento 5 Stelle in due finiscono all'ospedale. Si incendia dunque la campagna elettorale rissa tra un attivista del Movimento 5 Stelle e Gianni Mastromauro, fratello appunto del sindaco. Entrambi, almeno quanto riportato qui, sono finiti al pronto soccorso. Passiamo alle notizie dell'Aquila sul messaggero. Dunque aeroporto ok all'ampliamento della pista, prove tecniche di decollo dello scalo dei parchi e collaudo di nuovi assetti politici in consiglio comunale. La delibera relativa all'ampliamento della pista dello scalo approvata con 20 voti favorevoli. Ha sancito anche l'avvio di nuovi equilibri in seno alla minoranza quando a sorpresa Raffaele Daniele ha annunciato il voto favorevole non solo dei partiti dell'Udc ma anche di Nuovo Centrodestra e Forza Italia prendendo le distanze ufficiali da Giorgio De Matteis al quale rimangono fedeli in consiglio Emanuele Imprudente e Daniele Ferella. A gongolare è soprattutto il sindaco Massimo Cialente per il quale la delibera sullo scalo rappresentava l'ennesima eutanasia della maggioranza con pagine dalla quale sembra essersi staccato definitivamente Pierluigi Mancini. La delibera ha avuto un così ampio consenso grazie anche a un emendamento salvatutto del consigliere Sel Giustino Masciocco. Un passo indietro l'atto è composto di due parti la prima è relativa all'allungamento di soli 10 metri della pista per un costo di circa 45 mila euro e la seconda parte invece avrebbe contemplato il cambio di destinazione d'uso con annessione al sedime di circa 2 ettari di terreni con destinazione agricola. Mentre anche qui viene riportata appunto la notizia del campo dei Salesiani dunque sul campo dei Salesiani scritta rossa di protesta il direttore dell'oratorio rivela l'accordo per un parcheggio sotterraneo. E andando oltre leggiamo le notizie di Avezzano sul Mona e appunto depuratore ad Avezzano il comune autorizza l'avvio. Dunque dopo 16 anni di rinvii da parte rinvii parte il depuratore del comune di Avezzano e il sindaco dunque sospende il blocco dell'utilizzo delle acque del fuscino gravemente inquinate dal mancato funzionamento dell'impianto. Ieri la firma ufficiale con foto ricordo e cerimonia celebrativa davanti alla stampa e ad alcuni amministratori. Quello che era un atto dovuto diventa pensate che tristezza eccezionale occorre anche sottolineare però che ieri al secondo impianto di Palazzo di Città al secondo piano scusate del Palazzo di Città girava copia di una deliberazione con la quale ben quattro consiglieri della ex maggioranza si opponevano al varo dell'impianto. Il sindaco di Pangrazio autorizza dunque l'Arap ex nucleo industriale ad azionare le macchine in località Borgo Via Nuova strada 2 con al fianco gli assessori Roberto Verdecchia e Francesco Paciotti. In perfetta sintonia con Tiziano Petrucci presidente dell'Arap Francesco Sciarretta presidente del consorzio di Bonifica i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Acqua Nostra, centro giuridico del cittadino e quando ci sono le sinergie giuste si opera insieme ha sottolineato il sindaco di Pangrazio si vedono, dice, i risultati. Mentre uccise moglie e figlia negata perizia psichiatrica per Vélie Semanage che appunto fu il padre padrone che freddò con una pistola a tamburo ricorderete l'ex moglie di 45 anni ed una delle figlie di 21 anni solo perché avevano denunciato i suoi abusi sessuali dopo vessazioni durate anni una situazione che indusse la moglie appunto con le figlie a lasciarlo ma questo gesto generò purtroppo la sua furia omicida mentre per tangenti sempre ad Avezzano un doganiere affinito ai domiciliari dunque arrivato in tribunale ad Avezzano per la convalida dell'arresto il funzionario della dogana di Avezzano Rocco D'Angelo, 55 anni di Luco dei Marzi difeso dall'avvocato Tommaso Fina e del foro di Avezzano arrestato l'altro giorno dalla guardia di finanza mentre intascava una mazzetta di 500 euro da un imprenditore agricolo l'interrogatorio del doganiere è stato breve infatti di fronte al GIP Maria Proia si è avvalso della facoltà di non rispondere e così l'uomo dopo la convalida dell'arresto ha fatto ritorno a casa dove si trova gli arresti domiciliari come disposto dal procuratore di Avezzano Maurizio Cerrato Passiamo ora al messaggero nazionale dunque i titoli disoccupati il piano pensioni intervista al ministro Poletti per gli over 60 anticipo dei requisiti per la previdenza PIL negativo a sorpresa nel primo trimestre la borsa perde il 3,6% e lo spread si impenna dunque pensione anticipata per i disoccupati over 60 è il piano del governo annunciato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti stiamo pensando a un ponte spiega il responsabile delle politiche sociali in un'intervista per erogare l'assegno un anno o un anno e mezzo prima intanto arriva una doccia fredda dal PIL che dopo il timido più 0,1 del quarto trimestre 2013 nei primi tre mesi di quest'anno è tornato negativo a meno 0,1 borsa a picco e vola lo spread mentre Rai tagli a manager e direttori tetto di 240.000 euro agli stipendi dunque in Rai tetto a 240.000 euro lordi per tutti potrebbe sembrare un riparo più che sufficiente ma via le mazzini sono 44 gli altri dirigenti e giornalisti che ci sbatteranno la testa mentre la camera questa è una notizia molto importante ha votato sì all'arresto e Genovese si costituisce subito intervento di Renzi per il voto palese e come saprete c'è stato uno scontro con il Movimento 5 Stelle dunque la camera ha votato sì all'arresto di Franco Antonio Genovese deputato PD imputato di associazione a delinquere riciclaggio e peculato per la prima volta a scrutinio palese in 371 si sono detti favorevoli all'arresto contro 39 no Genovese si è subito costituito a Messina la sua città dove è entrato in serata al carcere di Gazzi la legge è uguale per tutti e il PD la applica sempre anche se si tratta di propri deputati dichiara Matteo Renzi ancora a botta calda e Berlusconi dice noi sempre garantisti la fotonotizia Colosseo a numero chiuso dirigenti al posto dei custodi dunque a Roma il Colosseo resterà aperto nella notte bianca dei musei ma solo a numero chiuso 3000 persone con alcuni dirigenti al posto dei custodi l'accordo è stato accettato anche dai sindacati dopo le polemiche dei giorni scorsi Renzi dice evitato uno scandalo avevo già detto ai ministri che sarebbero dovuti andare a lavorare lì per scongiurare la chiusura Passiamo ora al Corriere della Sera e qui il titolo ovviamente riporta la notizia dell'arresto di Genovese il PD Genovese già in carcere sì della Camera niente applausi silenzio dopo il voto dunque via libera della Camera all'arresto del deputato PD Franco Antonio Genovese no di Forza Italia NCDE6 in parte del Partito Democratico Genovese accusato di associazione a delinquere peculato e truffa si è costituito nel carcere di Messina Milano doppie indagini Boccassini contro Robledo e invece appunto compromesso alla scala Pereira lasci nel 2015 Pereira dovrà lasciare la scala alla fine del 2015 è l'effetto delle accuse rivolte dal CDA al sovraintendente designato dopo l'acquisto di quattro opere dal festival di Salisburgo Pisapia sindaco di Milano e presidente del teatro dice eccesso di potere anche qui viene riportato ovviamente la notizia del taglio agli stipendi della RAI e oltre appunto alla fotonotizia della piccola grande corsa di due gemelle in Illinois ci interessa più che altro appunto la vignetta di Giannelli di oggi che si intitola l'Europa a due velocità e ovviamente c'è un Matteo Renzi che guida un treno un vecchio modello ovviamente di quelli ancora con a locomotiva pensate dice accidenti dove sono ora i fanatici anti-TAV mentre a fargli diciamo a a prenderlo in giro c'è la Merkel che guida un treno evidentemente modernissimo anche se non si vede bene e che ovviamente è molto più avanti di Matteo Renzi e questa cosa effettivamente è vera quanto almeno fa sorridere e bene amici di TV1 vi ringrazio per averci seguiti vi segnalo appunto il TG delle 13 e 45 e vi auguro una buona giornata ciao ciao Grazie a tutti.